Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. L'eredità? Ecco chi sono le due professoresse di Marco Liorni. Una poi, in particolare, è un ex volto noto del grande fratello. Come sappiamo, il 2 gennaio è andata in onda la nuova stagione dell'eredità, che con questo 2024 ha portato anche un nuovo superconduttore, Marco Liorni. In Sina, infatti, è stato sostituito, non con poche remore, ma c'è da dire che lascia il testimone ad uno dei più bravi sulla piazza. Ma quello che sta facendo molto chiacchierare in queste ore è la scelta delle due professore come sempre bellissime, sono due volte noti dello showbiz italiano. Andiamo a vedere chi sono e perché. Le ragazze, come abbiamo scoperto, si chiamano Michelle Masullo e Naomi Bonomo, e come le veline di striscia, sono una bionda e una mora. Michelle è la bionda e, come molti avranno notato, è un volto che già abbiamo visto in tv. La giovane risiede a Milano da sette anni e vive nella casa di Giosquillo, a cui attribuisce il ruolo di seconda mamma. La ragazza ha raccontato, in un momento difficile della mia vita, Giosquillo mi ha aiutato e mi ha accolto in casa sua. Con amore. Contribuendo a farmi diventare la donna che sono. Ero sempre da sola. Ed ero distrutta dalla fatica. Anche Gio lavorava in quel programma e un giorno, vedendomi stanca e un po' demoralizzata per quella vita da nomade, mi ha detto che se lo avessi voluto sarei potuta rimanere a dormire a Milano. E ancora, tanto la casa in cui vivevo con i miei è vuota e puoi stare lì, sono state le sue parole. Mia mamma non c'è più e mio papà è in ospedale. Pensando ai suoi genitori, Gio è scoppiata a piangere. Io l'ho abbracciata forte e da quel giorno in poi abbiamo iniziato a vivere sotto lo stesso tetto facendoci reciprocamente compagnia. L'amore invece è Naomi Bonomo. Di lei si sa molto poco. Sembra che sia una ballerina, attrice, conduttrice e modella napoletana, ma che è anche una studentessa di management all'Università Partenope. Ha condotto, in una tv locale, il bello del calcio e è preso parte allo spettacolo teatrale BIS di Francesco Cicchella, con il quale è apparsa in qualche foto sul suo profilo Instagram mano nella mano. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.